Danneggiava e rubava nelle auto parcheggiate e nell'area dell'ospedale. Questa l'accusa dei carabinieri nei confronti di un pregiudicato arrestato ieri. Si era appena impossessato di un morsello e lasciato sul sedile anteriore di una macchina. L'incidente tra uno scooter e un'autovettura stamattina in via Rioni nei pressi dell'ospedale. Grave una 17enne che era la guida del mezzo a due ruote, adesso ricoverata a Palermo. Indagini da parte della Polizia Municipale. Licenziato dal comune di Sciacca, Cursio Amato è lavoratore socialmente utile in carcere da due anni con l'accusa di tentato omicidio e danni della moglie. Il legale però annuncia ricorso perché si attende ancora alla sentenza di ultimo grado. Venerdì 25 novembre, questa è la data prescelta dal Comitato Civico per la Sanità per lo sciopero generale a difesa dell'ospedale. Decisione assunta ieri pomeriggio, sciopero che potrebbe essere revocato in presenza di fatti nuovi. A.A.A. candidatura Sindaco Cercasi, centro-sinistra ancora in alto mare in vista delle prossime elezioni amministrative in programma tra sette mesi. Il totonomi è già iniziato ma nessuno al momento sembra intenzionato a scendere in campo. Piano Aro del Comune di Sciacca, la responsabile regionale dell'anticorruzione, Luciana Giammanco, ha inoltrato al Comune di Sciacca il ricorso di Casa Artigiani, che ha chiesto la sospensione delle procedure di gara all'urega di Agrigento. Un cordiale saluto, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca a danneggiamenti e furti all'interno delle autovetture parcheggiate nell'area dell'ospedale di Sciacca. Dopo i tanti casi che si sono registrati nelle ultime settimane e che avevano destato allarme tra gli operatori sanitari e i cittadini, i carabinieri hanno arrestato ieri un saccense di 34 anni pregiudicato. Aveva appena messo a segno un colpo impossessandosi di un borsello che era stato lasciato nel sedile anteriore di un'auto. Da giorni i carabinieri tenevano sotto controllo il parcheggio del Giovanni Paolo II. La cronaca nel servizio. L'ultimo colpo al parcheggio dell'ospedale di Sciacca è stato messo a segno ieri mattina, ma questa volta la zona era attentamente sorvegliata dai carabinieri della locale compagnia in Borghese, ai quali non è sfuggito il fare furtivo di un uomo che si è avvicinato a una delle auto parcheggiate e che dopo essere riuscito ad aprirla, si è impossessato di un borsello che era stato lasciato sul sedile posteriore. Per furto aggravato i militari dell'arma hanno arrestato un saccense di 34 anni, che messo alle strette ha ammesso tutto. L'uomo aveva provato a dileguarsi allontanandosi velocemente dalla zona con l'auto di sua proprietà, ma i carabinieri lo hanno inseguito con l'auto di copertura, riuscendo a bloccarlo qualche chilometro dopo, proprio sotto la sua abitazione, quando ormai credeva di essere riuscito a farla franca. Sottoposto a perquisizione è saltato fuori il borsello precedentemente rubato, con all'interno documenti e soldi. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Sciacca. I carabinieri ritengono che il 34enne possa essere l'autore dei tanti furti su auto messi a segno nelle ultime settimane nella zona dell'ospedale di Contrada Segnazza, ma anche di quelli avvenuti nel litorale di San Marco, sempre all'interno delle auto parcheggiate. Un vero e proprio allarme quello che si è registrato nell'ultimo periodo al parcheggio dell'ospedale, da qualche tempo non più custodito, a causa dei tanti furti con conseguente danneggiamento delle auto, commessi anche in pieno giorno. Le denunce non si contavano più da parte di cittadini, medici e dipendenti della struttura sanitaria che, dopo aver posteggiato l'auto, la trovavano con i finestrini in frantumi e derubata di tutto ciò che c'era all'interno. Rabbia e timore al tempo stesso e sentimenti di quanti erano comunque costretti a lasciare la propria auto in quel parcheggio per recarsi al lavoro o per una visita medica, rischiando di trovarla comunque danneggiata. A fronte delle tante denunce, i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno organizzato svariati servizi di osservazione, sia di giorno sia di notte, anche in Borghese, per non farsi notare e riuscire a beccare in flagranza di reato e ladro. Circostanza avvenuta proprio ieri mattina. C'è stato un grave incidente questa mattina in via Lioni, nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II. Per cause tuttora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, si è verificata una collisione tra uno scooter guidato da una 17enne e un'autovettura condotta da una donna. Ad avere la peggio, la ragazza che ha riportato diverse ferite, tra cui un trauma cranico, subito soccorsa da alcuni passanti e trasferita nell'area d'emergenza del Giovanni Paolo II, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento urgente all'ospedale civico di Palermo. La 17enne è ricoverata in rianimazione ed è in prognosi riservata. Il comune di Sciacca ha deciso di licenziare Accursio Amato, l'operaio LSU che circa due anni fa provò ad uccidere la moglie. L'uomo in appello era stato condannato a sei anni di carcere per tentato omicidio. Sentiamo. Per Accursio Amato è scattato il licenziamento da parte del comune di Sciacca. L'operaio LSU, in forze per circa 20 anni all'ente pubblico, come si ricorderà, poco meno di due anni fa, venne arrestato per il tentato omicidio della moglie a seguito di dissapori familiari. L'episodio avvenne nell'abitazione dei due coniugi. Nello scorso mese di giugno, la terza sezione della Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza che era stata emessa dal giudice Luisa Intini del Tribunale di Sciacca. Il 54enne è stato condannato infatti a sei anni di carcere. In primo grado il saccense era stato giudicato con il rito abbreviato e gli erano state riconosciute le attenuanti generiche, oltre a beneficiare dello sconto di un terzo della pena. A seguito di questo fatto di cronaca e della conseguente condanna, Amato, ovviamente, come si legge testualmente, nella determina dirigenziale pubblicata oggi nell'albopetorio online, è stato impossibilitato a svolgere il regolare lavoro a cui lo stesso era assegnato e quindi il comune di Sciacca ha deciso di licenziare il proprio dipendente. La difesa di Amato ha già annunciato di voler rimpugnare al TAR questa determina e contestare quindi la decisione del comune. A Cursi Amato, al momento, si trova agli arresti domiciliari in attesa della sentenza di Cassazione, che potrebbe anche decidere di assolverlo. L'avvocato difensore Mauro Tirnetta, mesi fa, aveva anche presentato una richiesta di autorizzazione per permettere al proprio assistito di regarsi al lavoro, richiesta che non era stata accolta dai giudici. Venerdì 25 novembre è questa la data prescelta dal Comitato Civico per la Sanità per lo sciopero generale a difesa dell'ospedale di Sciacca. Decisione assunta ieri pomeriggio nel corso della nuova riunione promossa dal Comitato. Uno sciopero che i responsabili del sudarizio sperano di evitare, confidando sul mantenimento delle promesse fatte dall'assessore Gucciardi, a partire dal riconoscimento del Giovanni Paolo II come ospedale SPOC di primo livello al pari del San Giovanni di Dio di Agrigento. Massimo D'Antoni ha raggiunto telefonicamente il portavoce del Comitato, Ignazio Cucchiara. Ascoltiamo. Avvocato Cucchiara, ieri il Comitato Civico per la Sanità si è riunito e ha preso la decisione che un po' tutti aspettavano. Sì, ieri sera il Comitato dopo una lunghissima discussione è arrivato alla conclusione che il 25 novembre ci sarà una sorta di sciopero generale, sempre che nel frattempo l'intera situazione non si sviluppi in maniera favorevole e positiva per l'ospedale di Sciacca e a tal fine il Comitato ha già deciso di portare avanti due iniziative, una nei riguardi del funzionamento ordinario, normale dell'ospedale e a tal fine chiederemo ai due direttori del presidio ospedaliero di Sciacca di effettuare un confronto al fine di capire quali sono le ragioni della disfunzione di questa sosta di abbandono dell'ospedale di Sciacca. La seconda iniziativa che tende a ottenere il riconoscimento del livello superiore dell'ospedale di Sciacca come SPOC di primo livello va effettuata attraverso una lettera a documento che manderemo nel giro di pochi giorni ai sindaci. Desideriamo che ci sia un confronto ancora aperto, ancora di più, al fine di passare dalle promesse fatte dall'assessore Cucciardo a concrete iniziative. Ecco, vogliamo per dirla in maniera chiara, nero sul bianco. Le chiacchiere, le affermazioni, non abbiamo motivo di dubitare che abbia fatto un'affermazione in perfetta buona fede, ma noi sappiamo che cosa succede a livello regionale, quante promesse in questo momento per ragioni diverse vengono fatte. Noi intendiamo ottenere il risultato di una seria considerazione di questa parte del territorio che, come ha riconosciuto lo stesso assessore Cucciardo, non riguarda solo una parte della provincia regionale di Grigento, ma anche parte del territorio della provincia di Palermo e della provincia di Travani. Vorremmo che si ritornasse alla ragione, alla serietà che hanno portato a fare di Sciacca l'azienda ospedaliera. Ricorso di Casa Artigiani contro il piano aro del comune di Sciacca, il responsabile per la prevenzione della corruzione della regione Sicilia, Luciana Giammanco, ha inoltrato la documentazione al comune. Il ricorso è stato presentato in autotutela e finalizzato a sospendere le procedure di gara da parte dell'Urega di Grigento. Non si registrano novità su questo fronte, dopo che è scaduto il 21 settembre scorso il termine per la presentazione delle offerte che dà indiscrezione, pare siano due, i particolari nel servizio. Il responsabile per la prevenzione della corruzione della regione Sicilia, Luciana Giammanco, ha inoltrato al comune di Sciacca la documentazione relativa al ricorso presentato lo scorso mese dall'Associazione Casa Artigiani di Agrigento. E' finalizzato all'annullamento in autotutela delle procedure per l'affidamento del servizio di igiene urbana da parte dell'Urega di Agrigento. E' il ricorso contro il piano aro che l'Associazione Agrigentina ha inoltrato a pochi giorni dalla scadenza del bando all'Urega di Agrigento, appunto, al comune di Sciacca e ai responsabili a livello regionale e nazionale dell'autorità anticorruzione, oltre che alla Procura della Repubblica. Il 21 settembre scorso è scaduto il termine entro il quale andavano presentate le offerte per l'affidamento dell'appalto che nei prossimi sette anni dovrà disciplinare il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel perimetro comunale Saccense. La gara è stata bandita per un ammontare complessivo di 24.661.000 euro per un importo annuale di 3.523.000 euro. Da indiscrezioni pare che siano due le offerte pervenute e che dovrebbero essere valutate dall'ufficio per l'espletamento delle gare d'appalto, o meglio, dalla commissione che si starebbe definendo. Il ricorso di Casa Artigiani ha ipotizzato presunte irregolarità nella stesura del piano aro. Uno degli aspetti contestati dal sindacato riguarda il requisito previsto per le aziende di essere iscritte al registro del codice della navigazione e di avere la disponibilità di un mezzo navale per espletare un servizio all'interno dello specchio d'acqua dell'area portuale. Servizio, osserve il sindacato, che incide nel piano finanziario presentato dallo stesso comune per 2.500 euro annui su un calone annuale di 3.523.000 euro. Cosa questa che Casa Artigiani ritiene violi i principi comunitari posti a tutela della concorrenza e della imparzialità e della parità di trattamento delle imprese partecipanti al bando. Altro punto su cui Casa Artigiani ha basato il ricorso riguarda l'iscrizione all'albo gestori ambientali per la categoria 9, quella che riguarda la bonifica dei siti. Nel piano economico, secondo il presidente di Casa Artigiani, Domenico Cusimano, non vi è traccia di importi per la bonifica dei siti. Per i ricorrenti inoltre, così per come è stato predisposto il piano, si verrebbe a determinare una discriminazione per le aziende che potrebbero associarsi con altre aziende che hanno i requisiti richiesti, restringendo così la platea dei partecipanti. Questa dunque è la posizione di Casa Artigiani, ma sul piano aro del comune di Sciacchera ha già stato presentato un altro ricorso, in questo caso al Tribunale Amministrativo Regionale, da parte del Comitato per la Trasparenza dei Costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti. E a proposito di raccolta rifiuti, da oggi i comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita entrano a far parte del piano aro. Il servizio di raccolta era stato finora affidato alla Società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A., giudicata però dalle amministrazioni comunali inefficace e dispendiosa. La raccolta dei rifiuti da oggi in questi comuni verrà svolta dalla Società Loverall, con sede a patti in provincia di Messina, che in una prima fase continuerà la gestione con il vecchio sistema finora utilizzato, ma che dal 16 ottobre prossimo inizierà con il nuovo sistema di raccolta previsto nel piano di intervento, così come approvato dagli organi istituzionali competenti. Località Foggia, le prese con diverse perdite idriche presenti sulla strada dalla scorsa estate e senza che Girgenti Acque sia ancora intervenuta, malgrado le diverse sollecitazioni. Strade allagate e acque che, disperdendosi copiosamente, non arriva più neanche nelle cisterne delle abitazioni. Per il Presidente del Comitato di Quartiere si è in presenza di inadempimento al contratto da parte della Società che gestisce il servizio idrico. Sentiamo. Strade allagate a causa delle tante perdite idriche presenti da mesi e mesi, acqua che inesorabilmente si disperde sul manto stradale e che non arriva più nelle cisterne delle abitazioni. Gente esasperata chiaramente non solo per i pericoli al transito veicolare. Succede tutto questo in Contrada Foggia, località balneare dove tanti saccensi risiedono non solo durante la stagione estiva. La rabbia del Presidente del Comitato di Quartiere Mauro Butera. Ormai la situazione della strada via dei Coralli specialmente, quindi lungomare, quella che porta all'ex passaggio a livello, è in una situazione insostenibile. Si stanno formando sempre più perdite che provocano l'allagamento di tutta la strada, provocando anche quello che può essere un pericolo per il transito dei veicoli. Diciamo che acqua nelle cisterne delle abitazioni non arriva più, perché le perdite sono tali che non riesce il flusso d'acqua ad entrare nelle cisterne delle abitazioni. Copiose perdite idriche presenti nella zona dalla scorsa estate senza che sia stato effettuato alcun intervento da parte di Girgenti Acque, nonostante le ripetute sollecitazioni. La gente protesta non soltanto perché non ha acqua, ma anche per il pericolo che è insito nella presenza di acqua sul manto stradale e sul fatto che comunque per tutto questo periodo che si protrae ormai da tempo, perché noi abbiamo denunciato sia all'amministrazione che a Girgenti Acque la presenza di queste perdite idriche già in epoca anteriore ad oggi, cioè già nel periodo estivo si erano verificate queste perdite che non sono state ripristinate. Per il Comitato di quartiere della Foggia si è in presenza di inadempimento contrattuale bellebuono da parte della società che gestisce il servizio idrico. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che evidentemente se ci sono delle segnalazioni, se ci sono delle perdite idriche che non vengono ripristinate, è evidente che Girgenti Acque, che è lente apposito a fare questo tipo di interventi, non lo fa, è inadempiente. Sulla vicenda oggi interviene anche l'associazione L'altra Sciacca. Di solito l'arrivo dell'acqua corrente viene atteso da tutti come qualcosa di positivo, vista la gestione non idilliaca del servizio, osserva l'altra Sciacca, ma nella via Ruggero di Lauria in Contrada Foggia l'acqua corrente finisce invece per disperdersi a causa di una perdita idrica che raggiunge il mare. Crediamo sia opportuno che chi di competenza intervenga tempestivamente, conclude l'associazione. E ci occupiamo di politica. Da sette mesi, tra sette mesi, scadrà il mandato dell'attuale amministrazione comunale, si tornerà alle urne, non si sa ancora se Fabrizio Di Paola si ricandiderà, ma intanto i suoi avversari non stanno nemmeno scaldando i motori, anche se cominciano a circolare i nomi di possibili candidature, sia nel Movimento 5 Stelle che nel centrosinistra. La nota politica di Massimo D'Antoni. AAA, candidato a sindaco Cercasi. A pubblicare la più tipica delle inserzioni oggi potrebbe essere benissimo il centrosinistra di Sciacca. A sette mesi dalla prossima scadenza elettorale, ancorché assai agguerrito nella polemica politica quotidiana, lo schieramento avversario della coalizione di governo capeggiata da Fabrizio Di Paola, non sembra ancora in condizione di individuare una personalità su cui puntare per tentare di tornare alla guida della città. Naturalmente da queste parti sembra esclusa ogni ipotesi di riproposizione in piccolo di quella sorta di partito della nazione, che se a Roma vede Matteo Renzi ed Angelino Alfano governare a Braccetto, a Sciacca vede PD ed NCD, protagonisti di un conflitto più che aspro. Difficilmente risolvibile, anche se in politica talvolta si raddrizzano le gambe ai cani, e qualche tentativo dai livelli romani sarebbe già stato fatto. E così, in attesa che Fabrizio Di Paola sciolga la riserva sulla propria eventuale ricandidatura, cosa che ha detto e intende fare dopo il referendum costituzionale, a questo punto evidentemente prima di Natale, è già scattato il Totonomi. Teoricamente, essendo il partito più grande, dovrebbe essere il PD a sottoporre ai possibili alleati la proposta di un proprio esponente, per formargli attorno una coalizione che sia coese soprattutto in possesso di una significativa cultura di governo, per evitare di ripetere gli errori commessi nel passato, tipo durante la sindacatura di Vito Bono, tanto per intenderci. Da quelle parti però tutto tace. Al nuovo segretario cittadino del partito, il renziano Michele Catanzaro, spetta il compito di riunire le varie anime del partito democratico, questione non semplice, soprattutto in questa fase, quella in cui parte della stessa sinistra interna sta battagliando nella campagna per il no al referendum del prossimo 4 dicembre. Eppure Michele Catanzaro in persona potrebbe scendere in campo, per dirla alla Berlusconi, per una candidatura a sindaco. Ci sono pressioni nei suoi confronti in tale direzione, puntando anche sulla sua giovane età, elemento che si pensa possa essere un attrattore nei confronti dell'elettorato. Ma uno dei nomi papabili per una possibile candidatura a sindaco con l'intenzione di allargare il più possibile il raggio d'azione, coinvolgendo nella partita magari Fabio Leonte, Paolo Mandracchia e altri soggetti civici, è anche quello del magistrato Nello Bongiorno, ex deputato nazionale. Un nome, questo diciamoci la verità, che viene puntualmente fuori ad ogni consultazione elettorale amministrativa, nome sponsorizzato dall'ex assessore Franco Lobue. Un nome, quello di Nello Bongiorno, in ogni caso autorevole e prestigioso, che sicuramente potrebbe tenere unito lo schieramento. Ma c'è anche chi, dentro allo stesso PD, immagina un accordo forte con sinistra italiana, rinunciando ad un proprio candidato e puntando su Leonte, o magari sullo stesso Mandracchia. Idea questa che però troverebbe qualche resistenza da parte della centrista. Non va dimenticato che nello schieramento di centrosinistra sciacca, c'è anche sciacca democratica di Nuccio Cusumano. Ebbene, si fa anche il nome dell'ex sottosegretario, come possibile candidato a sindaco, ritenuto uno in grado di amministrare bene sulla base di un'esperienza acquisita sul campo in possesso delle chiavi giuste per aprire le porte degli uffici che contano a Palermo, a Roma e a Bruxelles. Ma dallo staff di Cusumano escludono categoricamente un'ipotesi simile, così come Filippo Bellanca, da noi interpellato, esclude una sua possibile candidatura, la carica più importante del Comune. Circolano anche altre ipotesi, l'ex deputato regionale Vincenzo Marinello, oppure un possibile ritorno sulla scena di Ignazio Cucchiara, il quale però continua a dire che il sindaco l'ha già fatto e che adesso preferisce impegnarsi nella vita pubblica in modo diverso. Poi si parla anche di Mariolina Bono, 12 anni dopo la sua candidatura a sindaco, così come si parla di Filippo Marciante, ma neanche loro sembrano avere intenzione di candidarsi. Si sussurra insistentemente da tempo di un possibile impegno in prima persona di Carmelo Burgio, ex segretario generale del Comune di Sciacca, oggi in pensione. È improbabile, tuttavia, che Burgio possa accettare di candidarsi come possibile avversario di Fabrizio Di Paola, che lo volle al suo fianco come primo collaboratore. Burgio non è certo una persona senza scrupoli, privilegerebbe senz'altro il rapporto umano e si farebbe da parte. Sempre che il sindaco usciente intenda ricandidarsi, è chiaro, di fronte ad uno scenario diverso, infatti le cose potrebbero assumere connotazioni diverse. Di certo c'è che ad oggi il centrosinistra di Sciacca ha le idee tutt'altro che chiare, ma tra sette mesi si vota e sette mesi in politica sono un attimo. Ancora lamentele giungono dalla contrade Sabella e precisamente da Via delle More. Da settimane i residenti chiedono al gestore idrico che venga definitivamente ultimato l'intervento di sistemazione della perdita idrica. Perdita che solo dopo mesi è stata riparata, ma evidentemente non in maniera definitiva, con la buca non ancora asfaltata e che alle prime piogge rischia di diventare sempre più profonda. Buca, tra l'altro, afferma il telespettatore che ha scattato queste immagini, il cui segnale di pericolo è stato collocato maldestramente e quindi poco visibile agli automobilisti. Segno, conclude il telespettatore, che gli interventi del gestore idrico vengono effettuati in maniera superficiale. Raccolta differenziata porta a porta a Ribera, l'ennesima limitazione imposta dalla Regione sul quantitativo di spazzatura che può essere conferito in discarica, rischia di generale nuovi problemi. Il sindaco Carmelo Pace annuncia controlle e sanzioni verso quanti non rispettano l'ecocalendario o non procedono ad una selezione dei rifiuti. Già da sabato non saranno ritirati i sacchetti che, oltre al secco non riciclabile previsto per quella giornata, contengono altre tipologie di rifiuti. Vediamo. Si rischia nuovamente il caos rifiuti a Ribera dopo quello vissuto l'estate scorsa durante le settimane clou dell'emergenza che ha interessato tutta l'isola. Il problema è legato al nuovo limite nel conferimento dei rifiuti in discarica imposto dalla Regione, 40 tonnellate al giorno per il Comune Crispino. Nonostante i dati della raccolta differenziata siano più che soddisfacenti, grazie anche alla nuova modalità di selezione avviata nei mesi scorsi e al porta a porta che viene effettuato su tutto il territorio, il Comune di Ribera rischia di non riuscire a rispettare il limite massimo di spazzatura che può essere portata in discarica e questo determinerebbe disservizi nella raccolta giornaliera. Il problema è legato al persistere di alcuni comportamenti errati che il Sindaco Pace torna oggi a denunciare. Nella giornata di sabato, quando è prevista la raccolta del secco non differenziabile, diversi cittadini effettuano lo smaltimento della spazzatura unificando anche rifiuti riciclabili come umido, plastica, carta e altri materiali che andrebbero smaltiti invece nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. È giusto non generalizzare, precisa il Sindaco, ma non è accettabile che il Comune di Ribera rischi di non poter conferire in discarica per il solo fatto che parte della cittadinanza non effettua la raccolta differenziata nei modi stabiliti. Una situazione questa che si registra soprattutto nella giornata di sabato, ma che è sufficiente a far innalzare il quantitativo di spazzatura che va a finire in discarica. Il Sindaco Pace ha deciso di andare oltre gli appelli alla collaborazione che evidentemente non hanno sortito l'effetto sperato e oggi annuncia che a partire da sabato prossimo gli operatori ecologici non ritireranno il sacchetto contenente, oltre al materiale residuale non differenziabile previsto dall'eco-calendario, altre tipologie di rifiuti. Se nel sacchetto ci sarà anche carto, pure vetro o ancora lattine, sarà lasciato lì dove è stato esposto. E non finisce qui i trasgressori rischiano una sanzione perché sempre da sabato prossimo scatterà un servizio di vigilanza. Obiettivo primario, dichiara il nostro telegiornale Carmelo Pace, è la repressione del malcostume che nonostante le campagne di sensibilizzazione persiste ed è diventato una consuetudine. Ci spostiamo a Menfi, agricoltura d'eccellenza, conquista la bandiera verde 2016, riconoscimento che la Confederazione Italiana Agricoltori assegna a quei comuni che si distinguono per le loro capacità produttive, per la difesa del territorio e dell'ambiente. Un riconoscimento importante per Menfi che riempie di orgoglio e premi alla profonda sinergia tra istituzione comunale e associazioni locali, commenta oggi al nostro telegiornale l'assessore all'agricoltura del comune Carmen Amico. Dopo la bandiera blu assegnata dalla FEE per la salubrità del mare e la bandiera verde per spiagge e litorale a misura di bambino attribuita dall'Associazione Nazionale Pediatri, il comune di Menfi ottiene un'altra bandiera, questa volta per l'agricoltura d'eccellenza. Si tratta della bandiera verde della CIA, riconoscimento che la Confederazione Italiana Agricoltori conferisce a quei comuni che si distinguono per le loro capacità produttive per la difesa del territorio e dell'ambiente. Menfi è terra d'agricoltura, i suoi contadini sono sapienti custodi della terra, le produzioni di eccellenza si radicano in una profonda vocazione agricola del territorio che abbina il rispetto della terra con accorta innovazione, una terra in cui la comunità del luogo si riconosce nell'identità rurale del territorio. Queste le motivazioni alla base del conferimento al comune di Menfi del premio Bandiera Verde Agricoltura della CIA. La soddisfazione dell'assessore all'agricoltura Carmen Amico. È un risultato importante per la nostra comunità, una comunità rivolta ad una profonda vocazione agricola, una comunità che sempre dedita proprio al rispetto e alla difesa del nostro territorio. Quindi per me, proprio come assessore all'agricoltura, è un obiettivo che mi ero un po' opposta e sono contenta che per la prima volta a me viene riconosciuta questa ulteriore bandiera verde in un campo che è estremamente caratteristico del nostro territorio. Un riconoscimento che premia anche la perfetta sinergia tra istituzione comunale e associazioni locali, aggiunge l'assessore Amico. Io penso che è stato premiato l'impegno, la costanza e proprio la dedizione dell'intera comunità che è rappresentata nelle varie iniziative che sono state evidenziate nelle relazioni che noi abbiamo presentato alla CIA e quindi questa è proprio premia quella che era la forza che il Menfitano è caratteristica del Menfitano, questo attaccamento al territorio, questa grande dedizione proprio all'amore per la terra. Menfi si conferma dunque territorio di agricoltura d'eccellenza malgrado la crisi che attanaia il settore e la bandiera verde della CIA che il Comune riceverà ufficialmente il prossimo 11 novembre durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Roma presso il Campidoglio è un riconoscimento che fa guardare al futuro con ottimismo. Il testimonia proprio che è un comparto vivo sicuramente con criticità, con problemi ma che con la voglia di andare avanti e di superarli e questo per la forza anche collaborazione che c'è sempre tra l'amministrazione e l'intera comunità. Ridurre i tempi di attesa per le visite specialistiche e le analisi dei pensionati in Sicilia è la proposta contenuta in un disegno di legge presentato dalla CNA pensionati che è stato illustrato oggi in Commissione Sanità all'ARS. Il DDL prevede una serie di interventi a costo zero per la regione con l'obiettivo di garantire la salute delle persone pensionate che hanno esigenze specifiche che spesso si scontrano con il sistema sanitario siciliano. Arte e cultura, espressioni in maiolica è il titolo della mostra di opera in ceramica degli artisti saccensi Elisa Bone e Salvatore Licata in allestimento alla Casa Museo Scaglione. L'inaugurazione è fissata per venerdì 7 ottobre alle ore 20 la mostra che rimarrà al pubblico aperta fino al 21 ottobre è patrocinata dal Comune di Sciacca. Domenica di Carta si intitola così l'iniziativa promossa anche quest'anno dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo che vede l'apertura al pubblico dell'Archivio di Stato di Agrigento e della dipendente sezione di Sciacca domenica prossima 9 ottobre dalle 9 alle 13. Per l'occasione all'Archivio di Via Figuli sono state organizzate delle visite guidate mentre all'Archivio di Via Giuseppe Mazzini ad Agrigento oltre ai percorsi guidati saranno anche esposti alcuni documenti di particolare rilevanza storica. E ci occupiamo di sport torna in campo oggi lo Sciacca Ribera nella partita di ritorno di Coppa Sicilia il match si disputerà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico come è già successo all'andata. La grande rivalità tra i due gruppi Ultras è infatti risaputa. Si riparte dall'1-0 in favore dei Neroverdi in calendario altre 22 sfide per accedere al secondo turno della competizione. Il servizio. Si disputano oggi le gare di ritorno del primo turno della Coppa Sicilia manifestazione riservata alle squadre di prima categoria. Lo Sciacca sarà in campo al Nino Novara contro il Ribera 54. La partita di andata a cui si riferiscono le nostre immagini si è chiusa sull'1-0 per i Neroverdi. La qualificazione è ancora in bilico e al di là del risultato finale in gioco c'è anche la grandissima rivalità tra le due squadre e le due tifoserie. Tanto è vero che all'andata il match per ordine del questore di Agrigento si disputò a porte chiuse decisione che scatenò polemiche da parte degli Ultras Crispini rimasti durante la partita per lungo tempo fuori dal Gurrera. Anche la partita di ritorno tra l'altro si disputerà precauzionalmente a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. Il primo obiettivo dello Sciacca di Mario Putaggio è sicuramente il campionato di prima categoria competizione in cui si cercherà di portarsi e mantenersi nelle zone alte della classifica per tutta la durata del torneo. Ma i neroverdi proveranno pure a passare il turno di Coppa Sicilia per dare continuità di prestazioni e mantenere alto il morale dell'ambiente dopo la netta vittoria di tre giorni fa contro il Carini per 3-0. Le 23 partite di ritorno si giocheranno tutte oggi con calci di inizio spalmati tra le 15 e le 20 e 30. Oltre alla sfida tra Sciacca e Ribera 54 molti gli incontri ancora in bilico in virtù dei risultati delle partite di andata mentre sembrano già con un piede al turno successivo Miu Modica, Mister Bianco e Lineri Mister Bianco che all'andata avevano tutte travolto per 5-0 rispettivamente Comiso, San Gregorio Catania e Real Picanello. Tra le squadre che in campionato appartengono allo stesso girone dello Sciacca registriamo le sfide di Coppa Sicilia tra Fulgatore e Libertas Marsala all'andata 0-0 nuovo sportivo del Golfo Balestrate all'andata 1-1 e città di Carini Don Bosco Partinico all'andata 0-3 Termina qui questa edizione del nostro telegiornale grazie ancora per averci seguito buon pomeriggio Grazie a tutti